Sorpreso in auto con la droga ed una patente falsa e così è finito in manette un giovane albanese poco più che ventenne. È successo ieri pomeriggio in zona Saione attorno alle 17. Una pattuglia della volante infatti in via Po ha notato due persone che all'interno di un'auto, alla vista delle forze dell'ordine, sono partite a tutto gas. Dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a fermarli in via Arno. A bordo dell'auto due uomini, entrambi cittadini albanesi, in regola con i documenti, di 25 e 24 anni. Gli agenti hanno così deciso di procedere con una perquisizione più approfondita, dalla quale sono saltati fuori alcuni involucri contenenti 50 grammi di marijuana e 10 di cocaina. Ma non solo. In tasca il 24enne proprietario dell'auto aveva anche un'ingente somma in contanti, della quale non ha saputo dare plausibili spiegazioni. Gli agenti hanno così deciso di proseguire il controllo a casa del giovane. Qui sono stati trovati altri 25 grammi di marijuana occultati all'interno di un mobile del salone e dentro una borsa per gli attrezzi. Per il 24enne sono così scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato poi denunciato a piede libero perché al momento del controllo ha presentato agli operatori una patente di guida falsa. L'arresto oggi è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che contestualmente ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.